Sono Fabrizio Paltrinieri di Deda Group Stealth, mi occupo dello sviluppo commerciale per la mia società all'estero. Deda Group Stealth è una realtà italiana, parte di un gruppo più ampio che si chiama Deda Group e in particolare in Deda Group Stealth ci occupiamo di software gestionali per la moda. Lavoriamo con i principali brand italiani e nel nostro futuro vediamo sempre di più opportunità nell'estero in particolare in Francia ed è questo il motivo che ci ha portati a scegliere questo acceleratore perché noi vediamo nella Francia delle similitudini molto importanti con il mercato italiano specialmente per il brand del fashion e del lusso e quindi abbiamo selezionato con Elite Cassa Deposite Press e BPI France l'acceleratore. Dall'acceleratore ci aspettiamo di entrare in contatto con delle interessanti realtà francesi per poter espandere il nostro business sia attraverso una crescita organica che con delle acquisizioni o delle partnership molto interessanti.